Buonasera a tutti da Malaga, perché non mi conosce? Io sono Daniele Zemignani e dal 1992 mi occupo di intermediazione immobiliare. Oggi parleremo del mercato dell'usato in Spagna. Il prezzo delle case usate è calato mediamente dal 5 al 15%. La crisi economica derivante della pandemia sta provocando effetti percepibili nel settore resistenziale dell'usato. Quindi è un momento molto propizio per chi dispone di liquidità. Facciamo una breve analisi del mercato delle richieste. Il numero di richieste si sta sperimentando una contrazione nel 2020 che è molto accentuata nel mercato delle case usate. Qualora non migliorino le condizioni economiche potrebbe esserci una retrocessione dei prezzi fino al 25% in meno rispetto al 2019. osserviamo altresì l'aumento che c'è un aumento di immobili acquistati con il mutuo. Se nel 2019 67 casi su 100 venivano acquistati con il mutuo, nel primo semestre del 2020 osserviamo 91% di acquisto tramite mutuo. Il sistema inoltre ha una profonda incontrazione nella produzione di case nuove. Sarà danneggiata la produzione di immobili dovuta a una restrizione dei parametri per il finanziamento delle nuove costruzioni. Il soldone in questo modo significa che i costruttori che normalmente costruiscono finanziati delle banche in questo momento hanno dei parametri più restrittivi e hanno più difficoltà ad accedere al finanziamento. Si riduce quindi sostanzialmente la possibilità di costruire case nuove. Nell'arco di quest'anno assisteremo a una produzione media in Spagna di circa 70 mila unità. Quindi rispetto al 2016 ci sarà un calo circa del 30 per cento nella produzione di case nuove. Tuttavia per ora abbiamo solo parlato di produzione, non abbiamo parlato di prezzo, ci sono due cose completamente differenti. Infatti il prezzo delle nuove costruzioni si consolida nel 2020 e non notiamo significativi ribassi. Contrariamente al mercato dell'usato che sta vivendo una discesa media in Spagna dal 5 al 15 per cento. In questo caso l'incidenza del mutuo nelle grandi capitali si situa al di sotto del 35 per cento del costo dell'immobile. Si è passato solo a Barcellona dove il mutuo incide un 39 per cento e al San Sebastian dove il mutuo incide del 41 per cento. Sta aumentando significativamente il divario per l'accesso all'acquisto della prima casa del Covid. Una coppia doveva mediamente mettere via soldi per una decina di anni prima di poter acquistare un appazzamento e adesso a causa della crisi economica e questo lasso di tempo si sta notevolmente ampliando. Di conseguenza questo ha una ripercussione importante sul mercato delle locazioni. Per quanto riguarda le locazioni lo sforzo medio di ogni famiglia per poter avere una casa in affitto al momento si attesta al 33 per cento del reddito complessivo della famiglia nelle principali capitali spagnole. Fa sempre eccezione a Barcellona dove l'incidenza dell'affitto sul reddito familiare del 38 per cento e Madrid dove del 36 per cento. Ora veniamo alla parte che interessa a me e che interessa anche a voi cioè come tutto questo può essere utile per fare soldi. Bene attraverso la mia consulenza scoprirete che il mercato residenziale in affitto continua la sua espansione specialmente in capitale Madrid in tutta la sua area metropolitana. La formula Build to Rent quindi costruire per affittare come modello di sviluppo edilizio si rivela una grandissima opportunità imprenditoriale in tutte le capitali spagnole. Madrid naturalmente senza dubbio è il mercato più dinamico e si posiziona come ottima alternativa Barcellona che al momento sta soffrendo un po' di difficoltà burocratiche. Quindi è fondamentale essere orientati per fare il denaro nel mercato spagnolo da un professionista. Io mi auguro che se stai seguendo il mio canale hai individuato me come la persona da cui fare riferimento quindi ti invito attraverso il link che ti metto in descrizione a prenotare subito la tua prima call di consulenza su insomma e iniziare il processo di pianificazione al tuo investimento. Un saluto dall'Andalusia da Malaga e un abbraccio a tutti. Grazie, ciao.